Per me è sempre un piacere venire qui e presentare una rivista nuova. Io sono più che altro invece in veste di direttore marketing dei Bautumbria, che è una rivista che appunto molti già conoscono e che parla di eccellenza. Quindi mi fa piacere parlare di una nuova rivista che ovviamente parlerà di eccellenze del territorio. Tra l'altro è la seconda uscita che questa rivista fa, perché la prima sempre dentro l'evento di Umbria Libri, è stata presentata a Perugia all'inizio di ottobre. Mi sono preso la briga di andare anche a leggere un po' i commenti che ci sono stati dopo la prima presentazione e molti dei commenti dicevano che ci voleva una cosa così. E quindi evidentemente è una cosa che mancava, già questo è un fatto positivo, perché quando si va a realizzare qualcosa di nuovo è sempre secondo me un aspetto positivo. Tra l'altro c'è anche da dire che in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, avviarsi a una nuova avventura, soprattutto nel campo editoriale, è sempre una cosa molto bella, molto romantica e speriamo che sia anche una cosa positiva aperta per il futuro. Tra l'altro c'è anche da dire che in un momento così difficile,